Rubrica ricette grazie al cazzo. Stendiamo due grandi salami d'impasto per biscotti grassissimi in una teglia a cerniera, che sarebbe meglio chiudere e seppellire per sempre. Si continua con un'autostrada di oreo a tre corsie, più quella di emergenza. Copriamo con crema lotus, così chiamata perché ti fa andare da 0 a 150 di glicemia in 3 secondi e mezzo, e mostriamo con fierezza 1, 2, 3, 4, vabbè non facciamo in tempo a contarli insomma, tanti risis e affoghiamoli sotto palle di nutella. Siccome c'è il riscaldamento globale, costruiamo un ventaglio di tavolette al cioccolato e lasciamo uno spazio vuoto al cioccolato. Per far crescere la probabilità di morte al primo morso, al quindicesimo piano ci parcheggiamo una ventina di Mars, ma ci sono delle vie di fuga vuote e a noi infastidiscono, per questo tappiamole con preparato per brownie. Bottoncini cioccolatosi colorati per una botta di vita, cioè di morte, ecco brava ridi che è meglio. Con il timore che la teglia deflagri da sola da un momento all'altro, inforniamo la uccise cake, assaggiamo e constatiamo l'infarto fulmineo. lo Grazie per la visione